Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, si conferma strumento fondamentale per risolvere i conflitti tra cittadini e compagnie telefoniche. Per il 2018 presentiamo numeri che non esitiamo a definire straordinari, ha spiegato il Presidente Alessandro Di Cillis durante la tradizionale conferenza stampa annuale. Le richieste di conciliazione sono state 8.219 con un incremento del 35% rispetto all'anno precedente. Di queste ne abbiamo concluse positivamente l'85% 6.152, restituendo ai cittadini piemontesi circa 2.200.000 euro. L'entrata in funzione della piattaforma nazionale ConciliaWeb il 23 luglio 2018 ha portato a un ulteriore incremento delle richieste di conciliazione 5.400 fino a oggi, circa 300 a settimana, con la previsione del raddoppio di domande nell'anno 2019 rispetto al 2018. Le altre competenze sono state ricordate dal Vice Presidente Gianluca Martino Nargiso. Il Correcom è impegnato nella tutela dei minori nel loro rapporto con i media e quindi nel rapporto con la rete principalmente, per cui siamo impegnati in un'azione di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo, di concerto chiaramente con gli altri enti. E questo si svolge, questa azione di prevenzione di contrasto, partecipando alle attività di prevenzione, di formazione nelle scuole con i minori, con gli insegnanti e anche e soprattutto con i genitori, perché la digitalizzazione della società non porta con sé soltanto dei miglioramenti, ma porta nuovi strumenti che non sempre vengono utilizzati in modo corretto e che quando vengono utilizzati per aggredire e prevaricare evidentemente vanno capiti e vanno gestiti in modo adeguato. E in questi ultimi mesi abbiamo anche dato il via a incontri sul territorio per affrontare il problema del segnale RAI. Ha poi concluso De Cillis. Ci sono ancora troppi cittadini che subiscono questo disservizio. È una questione su cui continueremo a svolgere un ruolo e a far sentire la nostra voce.